Una scelta sofferta e a lungo meditata da tutti, ma la situazione è tale, soprattutto dal punto di vista sanitario, che si obbliga a prendere queste scelte drastiche, soprattutto per il bene della nostra gente, ma anche per il bene dell'economia stessa. So che non è facile capirlo da subito, perché è chiaro che tutti pensano che la situazione rientrerà a breve. Non è così, le strutture sono in tensione, sono vicine al collasso. Questa richiesta ci viene soprattutto dai nostri associati, dagli addetti della sanità, dagli addetti di trasporti, che chiedono con forza di bloccare tutto per permettere di far corso a quella che è l'emergenza sanitaria, per poi tutti assieme riprendere il cammino verso una nuova crescita, una nuova Lombardia.